Poteva essere fatta meglio la riforma del Senato, addirittura volendolo, se vogliamo, il Senato. Cosa che non è stata faccia, perché sventolare la diminuzione dei costi della politica è semplicemente ridicolo. In un paese dove si spende un miliardo di euro all'anno per la Camera e 540 milioni di euro all'anno per i costi di funzionamento del Senato, un risparmio di 54 milioni di euro a fronte di una diminuzione della sovranità popolare così consistente, è ridicolo.